Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Max e oggi signori dobbiamo andare giù in città da rat Io dico solo che devo portare questo paccone a Gianluca che è il suo regalo Il problema è che non so dove cazzo mettermelo Io ovviamente so dove sono le buste importanti per fare queste cose Ma ovviamente mia mamma me ne nasconde e qua ci doveva essere ma Guarda un po' c'è proprio il suo buco che non c'è Quindi mamma se stai guardando questo video hai rotto le balle a spostarmi le robe Ti voglio bene però non farlo più cazzo E niente cerco una roba e mi muovo perché sono in ritardo Grazie a GameStop che ci aiuti sempre E boh adesso andiamo velocissimi e dopo vi faccio vedere la reaction di Gianluca Siamo quasi arrivati alla casa del Gian Speriamo che il regalo vi piace perché a realtà ti piaceva in casa da un po' di settimane Da quando c'è laureato praticamente quindi speriamo in bene Speriamo in bene dai anche perché vabbè questo regalo di gruppo Però fortunatamente appunto regalo di gruppo perché se l'avessi fatto solo io Probabilmente sarei andato in panico su cosa scegliere Su cosa non scegliere e se andasse bene o meno Quindi è il momento della verità Però ecco io ho sempre avuto problemi a fare regali alle persone Perché magari so cosa vogliono ma non so effettivamente se lo vogliono in quel momento Gli può piacere quindi è sempre un limbo e un rischio Però poi vediamo adesso come andrà la situa Arrivo 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 È tutto filmato è tutto in live diretta Ciao Hopi ciao Hopi ti hanno dato il regalo dell'olio E dammi il gioco Oh ma di cosa è da due settimane che sono in casa Ma lo devo aprire adesso? Se vuoi Fammi la faccia sorpresa Ok la copertina E lì ci metto il punto di domanda Piccola info prima di continuare il video Volevo un po' spiegarvi cosa abbiamo regalato a Gianluca Allora a Gianluca come vedete appunto Come vedrete tra poco Perché questa parte qua sarà diciamo appena lui vede il pacco E diciamo che cosa contiene ecco Leggendo appunto sulla scatola È un giradischi Ok è un giradischi che funziona anche da cassa bluetooth Quindi tu ci puoi collegare il cellulare E diciamo che è molto comodo È molto vintage se vi chiamarlo così Appunto ci puoi ascoltare la musica È una cosa molto carina in realtà Che non è una completa cavolata La roba è che bisogna capire se effettivamente ci va sopra i vinili Perché è come vedrete tra poco È abbastanza piccolo il sotto ecco E quindi non si sa quello Quindi se lo studierà bene Gianluca Ma secondo me è la gran figata E faccio questo piccolo pezzo appunto Per spiegarvi questa piccola cosa Perché nel video non ne parlo Dato che sono queste clip e basta Dove vediamo un po' la reaction di Gianluca E fine Quindi vi lascio al video Spero che vi piaccia E niente Bella Come ti senti in questo momento Io ti dico sempre ho molta ansia con i regali Quindi Questo è un investimento per la nostra nuova Questo è un investimento Questo è un investimento bello e buono Non è male che ho spazio sul telefono Poi è caldo fate che c'è fuori Eh beh C'è umido più che altro Eh sì ma infatti Mi sa anche dopo che piove Sarà sempre peggio Sì Badadan badadan Il bataclan Allora mettiamolo qua Tesa Tesissima Ma questo perché Tipi di dischi è Non è per il vinile No siccome va bene anche per quelli grandi questo Cioè per il vinile in sé Serve da provare un vinile Perché questo qua fa anche da Da bluetooth Come da bluetooth? Fai anche da bluetooth È una di quelle cose nuove che fa anche da bluetooth Ovviamente Sì Mi deve Mi deve dare una Aspetta sto sbagliando tutto Mi deve dare una roba Aspetta che Aspetta che Cosa mi devi dare? Oh focus eh Focus eh Miu miu Cuscianel Tonico Premi la borsa Mamma mia Aiuto Hai visto Opie? Hai visto? Eh sì Dai Lecca No che poi devo berla Opie Aiuto Fa vedere Questa è la cosa più LOL Del mondo No che poi Grazie a tutti.